insediato il nuovo prefetto emanuela greco tornano i furti di catenina in discoteca la cgl prepara il decimo percorso congressuale scogliere investimenti su fano pesero mugugna carpegna un 2023 di ulteriore investimento turistico una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news ben ritrovati al telegiornale del canale 80 dedicato alle principali notizie della regione marche con particolare attenzione dedicata alla provincia di pesaro e urbino telegiornale di martedì 10 gennaio che apriamo andando a conoscere il nuovo prefetto di pesa rubino si tratta di emanuela saveria greco insediatasi proprio in questi giorni a palazzo ducale primi giorni a palazzo ducale per il nuovo prefetto della provincia di pesaro urbino la sessantenne cosentina emanuela saveria greco succede a tommaso ricciardi congedatosi a fine novembre dall'incarico in quanto raggiunta l'età pensionabile la greco rivestirà pesaro il suo primo incarico da prefetto dopo una lunga carriera istituzionale che l'ha vista operare alle prefetture di asti cosenza milano e vivo valenza fino al più recente incarico da vice prefetto vicario a pisa una prima settimana nel pesarese partita all'insegna degli incontri istituzionali ieri ho incontrato il sindaco il presidente della provincia e il presidente facente funzioni del tribunale sono giornate importanti di incontri e anche chiaramente di dialoghi sulle varie problematiche sebbene molto contenute devo dire al momento della città continueremo questi incontri per tutta la settimana domani andiamo ad urbino e con molto piacere conoscerò il sindaco di urbino perché ecco vorrei che le due città avessero il medesimo rilievo quindi proporrò già parlato ieri con i vertici delle forze dell'ordine proporrò anche dei comitati che si possano tenere anche ad urbino preoccupazioni diciamo non ne ho rilevate abbiamo parlato di varie operazioni importanti che ci sono state e diciamo di qualche piccola criticità che piccola non perché cioè piccola in sé ma non sentita piccola intendiamoci perché anche il furto che in sé potrebbe sembrare un reato meno grave lo è di molti altri reati quali quelli in materia di mafia però destano preoccupazione nei cittadini quindi l'intenzione e l'obiettivo sarà quello di assicurare al massimo proprio il bisticcio di parola è perdonato ma la sicurezza percepita dai cittadini quindi sarà l'impegno massimo delle forze di polizia che già c'è da quello che mi hanno detto per i risultati ottenuti ma sarà continuerà ad essere massimo l'impegno proprio per far sì che i cittadini possano sentire di vivere serenamente nel proprio territorio. Non mi sentirei al momento con le informazioni e le notizie che ho ad oggi di poter dire che c'è un problema mafia in questa provincia anche perché io ho svolto parte della mia della mia carriera in territori molto molto delicati quale Vibo Valencia e quindi parliamo di cose molto diversa. C'è poi il tema immigrazione tornato in auge col primo arrivo ad Ancona in questi giorni di navi di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo abbiamo sempre fatto con i prefetti nelle province in cui ho lavorato come vicario come capo di gabinetto che è stato quello di gestire il fenomeno e non di subirlo quindi cercheremo di gestirlo e di gestirlo in modo che ci sia anche quella integrazione di cui molte volte si parla ma che raramente si riesce ad ottenere. Aspettando di approfondire la conoscenza del territorio la Greco ha avuto qualche anticipazione dalla rilevante considerazione che la provincia riceve dal Ministero dell'Interno. Tiene grande considerazione questa provincia sia per la prefettura che è una delle prefetture più belle d'Italia ma anche proprio come territorio. C'è veramente una grande attenzione. E come avete ascoltato anche nel servizio appena andato in onda anche il nuovo prefetto Emanuela Greco ha toccato il tema immigrazione alla luce dell'arrivo della nave Joe Barents previsto ad Ancona proprio in queste ore con a bordo 37 naufraghi soccorsi in mare. A quanto si apprende i 25 adulti presenti sulla nave saranno distribuiti in centri di accoglienza nella regione in accordo con altre prefetture. I 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno invece la notte in un centro di accoglienza straordinario e a partire da domani saranno distribuiti in centri per minori proprio della regione Marche. Ed ora la cronaca. Nel prossimo servizio vediamo come purtroppo torni a riproporsi il fenomeno dei furti delle catenine nelle discoteche. Tornano i furti di catenine in discoteca. Questa volta a subirlo è stato un diciottene in un locale di Marotta mentre a perpetrare l'atto criminale sono stati tre giovani della provincia di Ancona di età compresa fra i 19 e 21 anni, uno dei quali di origine nigeriana. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà in seguito a un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Fano e di Mondolfo. I fatti risalgono alla notte dell'8 gennaio quando il diciottene in discoteca in compagnia di amici si sente spintonare e strappare la catenina in oro che aveva al collo. Voltatosi, alle sue spalle trovava il ventenne nigeriano a cui intimava di restituire il monile ma per tutta risposta veniva spintonato con violenza e con la complicità di un coetaneo. Derubato, il giovane decideva di rivolgersi agli addetti alla sicurezza che allertavano subito i carabinieri. Sul posto i militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza individuando i responsabili e ricostruendo il modus operandi dei tre giovani che agivano in sincrono in una combinazione di furto, fuga e minacce. I tre ragazzi sono stati individuati e portati in caserma. Su di loro gravavano già precedenti e ora dovranno rispondere di furto con strappo e minacce in concorso. Sono stati inoltre segnalati in questura per l'emissione di foglie di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia di Pesaro Urbino per i prossimi tre anni. Presenza sindacale costante sul territorio e preparazione al decimo congresso sono stati i temi al centro della conferenza stampa tenutasi oggi alla CGL Pesaro Urbino. Più di 400 mila appuntamenti negli ultimi cinque anni per tutela e assistenza hanno visto la CGL provinciale a supporto dei lavoratori che si sono affidati a loro. Il sindacato sta rappresentando sempre più un punto di riferimento e su tematiche attuali come pensioni, disoccupazione, consulenze e congedi verrà fatto il punto il 12 e 13 gennaio in occasione del decimo congresso a trebbi antico tra le storiche mura di Villa Catani-Stewart. Il congresso ci serve per rivedere quello che abbiamo fatto in questi quattro anni di mandato, per vedere anche le criticità e migliorare quello che non abbiamo fatto bene, valorizzare quello che invece siamo riusciti a fare e poi per ovviamente ridettare le nostre linee politiche per altri quattro anni. Sono due giorni, iniziamo il 12 pomeriggio, sono le persone che parteciperanno saranno 160 delegati, una bella platea importante, più ovviamente una cinquantina di invitati. Il secondo giorno, poi alla fine dei vari interventi, dei vari lavori congressuali, adempimenti congressuali, verrà eletto prima l'Assemblea Generale che leggerà poi il nuovo segretario generale. Un ruolo che da quattro anni è ricoperto da Roberto Rossini, unico candidato a queste elezioni per continuare a vestire i panni del segretario generale CGL per Pesaro Urbino. Il futuro segretario sul congresso, all'Assemblea Generale che nascerà al congresso, deciderà di riaffierarmi questo importante onore per me, questo ruolo. Io sono a disposizione, come si dice in questi casi. In costante crescita per la CGL provinciale sono gli iscritti, arrivati nel 2021 a quasi 47 mila. Spesso iscriversi ad un sindacato può risultare scomodo e rischioso per il dipendente nei confronti del datore di lavoro. Rischio che però, per essere sensato, deve essere direttamente proporzionale alla posizione del lavoratore. Il rischio è direttamente proporzionale alla condizione personale di quel lavoratore. È chiaro che, come dire, se sei un lavoratore precario e non sai se ti rinnovano il contratto o ogni due settimane ti rinnovano un contratto, è chiaro che ti fai dei problemi. Magari non ci sono, non sto dicendo che necessariamente ci devono essere. Però, diciamo così, quella condizione non porta quel lavoratore a iscriversi molto serenamente a qualsiasi organizzazione sindacale. Stessa cosa avviene se hai un contratto a tempo determinato. È molto più facile farlo con lavoratori appunto stabili, che hanno un rapporto di lavoro stabile e tanto più in una realtà aziendale dove il rapporto tra azienda e organizzazioni sindacali rientra nei canoni di quello che dovrebbe essere e che è normale che sia in un mondo, in una nazione come la nostra, il rapporto con le organizzazioni sindacali. In crescita anche il continuo contatto con i lavoratori, specialmente nel lungo periodo del 2020 dettato dal lockdown, in cui è prevalso l'utilizzo di procedure online e telefoniche. Procedure che continuano ad essere condotte non solo con lavoratori o lavoratrici dipendenti. Non solo le persone che si rivolgono a noi sono tantissime, non solo lavoratori e lavoratrici dipendenti, ma anche tante pensionate e pensionati. Abbiamo anche un ufficio, una struttura che si occupa della tutela delle partite IVA. Abbiamo degli uffici che seguono le assistenti domestiche e familiari. Diciamo che la gamma di persone che si rivolge a noi è molto varia ed è in questi anni è stata anche molto in crescita. La fascia di età principale che si rivolge ai sindacati e in questo caso alla CGL provinciale va dai 30 ai 50 anni e riguarda principalmente la sfera del precariato. E torniamo ad occuparci del tema della difesa della costa anche alla luce dei prossimi progetti di potenziamento delle scogliere attraverso i finanziamenti della Regione Marche. All'orizzonte ci sono importanti investimenti su Fano, mentre Pesaro e Gabicce Mare vedono bocciate alcune delle loro richieste. La difesa della costa fra inserimento e potenziamento delle scogliere è tema caldo di questi giorni con la Regione Marche che ieri ha inviato al Comune di Fano la convenzione utile a procedere con la progettazione delle opere con un primo finanziamento di 230 mila euro per poi programmare interventi complessivi da 4 milioni e 400 mila euro. La convenzione è da dover firmare congiuntamente in modo da poter poi attuare una progettazione complessiva di tutte le opere a difesa della costa a nord di Fano ed esattamente dal Torrente Arzilla fino a Fosso Seiore. In quella zona ci sono una serie di scogliere usurate nel tempo che vanno sicuramente in parte ripristinate. c'è una zona dove le scogliere proprio non ci sono quindi la costa non è difesa e ci sono alcune altre zone dove probabilmente le scogliere vanno un po' modificate. Noi abbiamo bisogno oggi di avere una situazione complessiva con un progetto complessivo che prevede tutto quel tratto di territorio in modo che appena questo progetto sarà redatto possiamo chiedere sempre con fondi ministeriali un finanziamento pari a 4 milioni e 400 mila euro per la sistemazione complessiva di tutta quella area. Passando da Fano a Pesaro il consigliere regionale Andrea Biancani lamenta invece una scarsa considerazione della regione per la punta settentrionale della costa. Secondo Biancani la regione ha destinato quasi 40 milioni di fondi PNRR e fondi europei a difesa delle coste ma a Pesaro saranno assegnate soltanto briciole ovvero 250 mila euro per sistemare una scogliera seppur importante sotto Castel di Mezzo. Bocciati invece gli stanziamenti di un milione e nove richiesti per le scoglieri di Baia Flaminia e di un milione e due per quelle di Vallugola. Anche Gabice con zero risorse stanziate dai fondi europei sarà costretta a cofinanziare eventuali interventi di messa in sicurezza della costa a differenza della gran parte dei comuni che invece riceveranno i fondi diretti. Domani 11 gennaio sarà trascorso un anno dalla scomparsa di David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo e figura molto vicina alla città di Pesaro e proprio domattina il Partito Democratico ricorderà il pensiero europeista di Sassoli con una esposizione installata nel loggiato del Palazzo del Comune a partire dalle 9.30 dopodiché alle 18 si terrà un'assemblea pubblica con letture e ricordi degli iscritti più significativi dello stesso Sassoli. Il Comune di Pesaro cerca otto giovani volontari per i progetti del Bando 2023 del Servizio Civile Universale che torna a proporre ai ragazzi tra 18 e 28 anni per il secondo anno consecutivo. C'è tempo fino a venerdì 10 febbraio per candidarsi come volontari a quattro progetti che si svolgeranno nelle sedi del municipio con durata variabile compresa tra gli 8 e i 12 mesi. Gli operatori del Servizio Civile dovranno svolgere servizio 5-6 giorni a settimana con una media di 25 ore e gli sarà riconosciuto un contributo economico mensile di 444,30 euro. Al Porto di Pesaro è attivo da questa mattina il terzo punto servizi della città gestito e realizzato da Aspes nella zona ex Rotonda Bruscoli che insieme a quello nei giardinetti di via Lezzara e a quello in via Oberda vicino all'ospedale completa dunque l'offerta di servizi igienici pubblici nella zona centromare. Da quando è stato aperto il primo punto servizi Aspes ha rilevato come siano stati registrati quasi 36 mila accessi, segno che si tratta di un servizio davvero molto utilizzato e c'è dunque l'intenzione del Comune di attevarne altri per coprire tutte le aree della città. Ottimi riscontri per la Rocca di Gradara che secondo i dati del Ministero della Cultura relativi agli accessi ai musei italiani nelle giornate straordinarie d'apertura del 26 dicembre e dell'1 e 2 gennaio ha registrato 4.555 ingressi che fanno collezionare alla Rocca de Magnale un lusinghiero 17esimo posto in classifica fra i siti più visitati in compagnia delle maggiori città d'arte italiane e confermandosi il luogo museale più visitato delle marche. E dal turismo culturale passiamo al turismo delle aree montane del nostro territorio, un elemento che il Comune di Carpegna intende potenziare in questo 2023 come ci spiega in questa intervista il sindaco Mirko Ruggeri. Il 2023 dovrebbe effettivamente essere un anno in cui si vanno a completare dei progetti che abbiamo già iniziato e vanno anche a concretizzarsi altri che sono stati solamente progettati. Intanto sicuramente il progetto che è più atteso è quello del completamento del Bike Park sul Monte Carpegna che darà la possibilità di realizzare questi sentieri per i bikers e quindi per le biciclette mountain bike. È un progetto che dovrebbe avere anche un grande ritorno turistico. Un'altra struttura che andremo a realizzare è una struttura coperta nell'area dei giardini pubblici che servirà come spazio didattico per la scuola elementare che è lì adiacente, ma soprattutto servirà per gli spettacoli di intrattenimento durante la stagione estiva. Sempre per quanto riguarda il discorso turistico, un'altra area che verrà interessata da una riqualificazione è quella del giardino di Meccanotte, dove noi andiamo a realizzare spesso delle commedie teatrali, delle presentazioni di libri. È un'area molto suggestiva e diciamo che verrà completata con un terrazzamento di un palco. Qui ci stiamo già lavorando, direi che i primi mesi dell'anno sarà realizzata. Sarà importante anche il sistema di irrigazione del quale stiamo adottando il campo sportivo di Carpegna. Ricordo che Carpegna è sede durante l'estate di tanti ritiri di diversi sport, tra i quali anche appunto il calcio. Attraverso il PNRR hanno riconosciuto un finanziamento di 1.400.000 Euro con il quale dovremo realizzare la nuova scuola dell'infanzia. Quindi ci sarà l'abbattimento della vecchia scuola che garantisce più a quelli che sono i criteri, soprattutto del discorso antisismico e al posto della vecchia scuola verrà realizzata la nuova. In più abbiamo richiesto un altro finanziamento che dovremo utilizzare per realizzare il tratto di strada mancante tra la scuola dell'infanzia e l'ufficio postale di Carpegna. Questa è una strada prevista ormai da più di 30 anni nel piano regolatore, ma non è mai stata realizzata. Speriamo che quest'anno riusciremo a fare anche questo. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto, prima di salutarci, vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questa sera dedicata alla TV dei viaggi. Andremo alla scoperta della Calabria e dei suoi antichi sapori a partire dalle 21.20. E domattina alle 7.20, come sempre in diretta, torna l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini attraverso la rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Ma facciamo un salto in avanti anche a giovedì sera perché torna insieme a Canestro il nostro format dedicato alla basket e alla VL che ha appena raggiunto le fan elite di Coppa Italia. Ne parleremo con il nostro Marco Cadeddu, con le domande di voi telespettatori che potrete interagire attraverso il nostro numero WhatsApp 370-366-7210, commentando il tutto in diretta e approfittando anche degli ospiti di questa puntata, ovvero il pivot della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro De Ancravic e Enzo Belloni, assessore comunale di Pesaro, nonché noto allenatore dei settori giovanili di basket. Appuntamento naturalmente al giovedì alle 21.20, come sempre in diretta. Ed è davvero tutto per questa sera, si conclude qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.